con giada ho portato chupa chups e non poteva aprire io come si apre non lo so hanno chiuso per sempre ci aveva mezz'ora per aprire perché io non mangio mai queste cose i bambini piccoli non ce li ho ma vedo che tutti i bambini mangiano e noi con giada ci siamo cascati nell'infanzia ci siamo cascati ci siamo caduti come si dice caduti comunque non riuscivo a aprire ora abbiamo aperto bastoncino è rimasto messo tutto nel bocca giada l'hai staccato bastoncino buono questo qua aiuta da tanti anni che non mangio la seconda vita nella mia vita mangio chupa chups io ho mai mangiato nella mia infanzia non c'era vedo che tutti mangiano bambini assaggiamo un buon relax abbiamo camminato tanto tanto guarda una ragazza autistica che non lo sa ragazza autistica che da cinque anni dopo vaccino diventata autistica io porto fuori due due ore fuori porto c'è la lei famiglia c'è la puoi guarda pensato chi vuoi andare via no si è spostata eh bene 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 c'è la mia boka caramella rimasta vero dai a me Lascia, lascia, lascia borse Lei è molto attratta da borse Buono, buono perché dura tanto, così, a me piace Sembra sigaretta Giada, che facciamo, fumiamo? Ti sembra fumi Giada, sempre fumo, anche io Io prima fumavo, ma 20 anni non fumo Quando ero giovane fumavo come tutti Un pochino così, per essere alla moda Ma ora sono salutista e assolutamente no Si sta bene quando non si fuma Non si stacca questo bastoncino Ma se deve camminare così Sempre così, con questo bastoncino Direi me Direi me che fai già da, già da c'è la giubeta belle, primavera, primavali, primavera, tutti i fiori ma c'era ti sorpresa ancora, vero? C'era una sorpresa piccola moderno così si mette guarda, un abbraccio dai, oh subito allora sei contenta? contenta, lei contenta contenta bastoncino, ti hai mangiato tutto veloce cerco qualcosa indietro ok cari amici vi salutiamo e vi auguriamo buona giornata buona serata quello che sarà chi mi vede per la prima volta iscrivetevi al mio canale, mi mettete bel like e mi scrivete nei commenti qualcosa fatemi domande così io rispondo classica vi saluto cari miei amici e ci vediamo presto arrivederci ciao 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 ciao